Un forte terremoto in Nepal ha provocato la morte di almeno 128 persone. 12 invece sarebbero rimaste ferite durante il sisma che ha colpito il distretto di Jajarkot. Il bilancio però è destinato a salire. Il terremoto è avvenuto nella notte di venerdì con una magnitudo di 6.4, secondo il centro sismiologico del Nepal, mentre l'US Geological Survey lo ha declassato a 5.6. Diversi edifici sono crollati e le scosse sono state percepite fino a Nuova Delhi in India.